Salvanza di La Caterna, l'apresentante dei saluti, del Traktore, ringraziamo la presenza della Repubblica Comunica, il Signore, il Berminico e il Regimo. Prozista sto a tritto, e Cristo parlierà e risolgerà mai molti i tanti giorni. In esso non saranno dedicati a tutti i popoli la compassione e il perdono di tutti. Gesù aiuta i nostri figli di noi, aiuta le nostre famiglie, aiuta le famiglie di tutto il mondo, aiuta i bambini, i poveri e i bambini, i malati. Grazie a tutti. 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 È fortemente radicata nelle tradizioni del nostro territorio, quindi è un orgoglio, voglio dire, essere qua oggi. È un ringraziamento base a tutte le famiglie che iscrivendo i loro bambini credono di fatto di una continuità, di un qualcosa che appartiene alla nostra comunità. Grazie di cuore a tutte le famiglie. Uno, zero, via! Un applauso, bravi! Un applauso, bravi! Grazie a tutti!